in compagnia di marco donatangelo al terreno del primo allenamento con il gioia nova benvenuto in giallo rosso grazie mille le tue prime sensazioni sensazioni positive già dall'arrivo al campo si si respira aria di calcio i ragazzi alcuni riconoscevo altri riconoscerò però impressioni positive l'impegno e il fascino del del fadini senza chi conoscevi già i tuoi compagni di paolo bittai e zanon e basta mister lucarelli al mister l'ho ritrovato dopo qualche anno dopo che l'anno scorso ci eravamo affrontati da avversari e vabbè so come lavora so che è un martello e va bene così senti sei un esperto di promozioni dell'eccellenza in di cosa serve per vincere questo tipo di campionato ma sicuramente bisogna essere costanti partita dopo partita e cercare di fare più punti possibili pensando solo a noi e alla nostra prestazione ma diciamo che al centrocampo ho giocato sia due sia tre e ultimamente come mezzala come play diciamo ho fatto un po' tutto cosa ti aspetti da questa nuova avventura ma sicuramente una sfida stimolante spero che alla fine potremo festeggiare